Non so se è un comportamento di un giocatore che dovrebbe avere, credo, fame per lei nel gruppo. No, ma non capito solo a lui. C'è un po' di 10 metri di più. A me è in abitudine dei miei cacciatori. E i cacciatori attuali, insomma, impiegarci un po' di tempo per entrare là. Si è parlato tanto di Papagazzi, parla tanto. Insomma, ora è una fase che deve pensare che non è più giovane. E deve capire cosa vuole fare nessuno talento. L'ultimissima cosa, visto che hai chiesto di Giuseppe Rossi, quanto manca a Bernardeschi per essere fra i convocati? Diceva che era un pizzico più avanti rispetto a Giuseppe Rossi. Sì, si sta in un gruppo, molto bene anche. Fortuna alle spalle, naturalmente, quando rientri dopo tanto tempo in attività, non so tanto per esperienze, ma c'è tantissimo entusiasmo. Quindi ci sono dei giochi che va benissimo, e degli altri giochi che fisicamente ralenti un po'. Lui deve avere fretta, nel senso che, perché altrimenti rischi poi di avere degli scoppi in attesi. È molto più avanti di Giuseppe Rossi, perché sta nella loro gruppo. Quindi, vediamo, che possa continuare in continuità negli avanti delle cose come sta bene. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!